Sì, sì, testa di Lepre, provincia di Roma. Sì, sì, un pulma, tre pulma sono partiti da là, però non so tutti da testa di Lepre. Traglia della... Eh, non l'ho ricordo, ma se viene quella signora, quella lo conosce bene. Capitano spesso lì al centro anziani, conosce il capo del centro anziani. Ma chi ha organizzato lui questa cosa, i pullman per venire qui? Non lo so io, io l'ho saputo dal centro anziani, io non lo so. Che vi hanno detto che vi avrebbero portato a vedere Berlusconi? No, ci portavano qui e basta. Da dove venite, siete? Di Roma? Noi siamo del comune di Fiumicino. Come siete arrivati qui in pullman? Pullman. Chi l'ha organizzato? Come si chiama? Chierici. Chi sarebbe? Roberto. Poi siamo del centro anziani di testa di Lepre. Anche lei del centro anziani signora. Comunque è contenta di essere qui adesso a vedere Berlusconi. Certo, però non hanno detto dove ci portavano, è una cosa così, poi non hanno detto niente.